E siamo allo sport e calcio, l'apertura ufficiale del calcio mercato, proprio oggi, giovedì 1 luglio, andrà avanti sino al 31 agosto. Per quanto riguarda il Pescara, il club biancazzurro deve sfoltire la rosa, che è composta in questo momento da 23 giocatori, sono tutti sotto contratto. Ricordiamoci, una squadra deve essere composta, un organico, da 25 giocatori, o meglio 24 giocatori, più un calciatore nato dal 1 gennaio 2002. Bene, diversi elementi, lo vedete proprio nel video, non sono proprio funzionali alle caratteristiche del gioco di Gaetano Oteri, che da lunedì sarà a Pescara. Tra l'altro l'attuale organico è privo di un terzino di fascia destra e di un attaccante centrale. Tra i papabili nel ruolo di terzino si era parlato di Davide Guglielmotti, del Renate, classe 1994, che però domani firmerà per la reggiana del neotecnico Aimo Diana, che ha allenato Guglielmotti proprio lo scorso anno al Renate in Serie C. Insomma, per il DS Matteassi il lavoro di certo non mancherà, si registra un asse caldissimo con il Monza, piacciono tre profili. Stefano Negro, difensore centrale classe 1995, lo scorso anno era a Perugia, 12 presenze per questo difensore di struttura, 1,93, un centrale di difesa di cui si parla molto bene. Poi, naturalmente, le attenzioni sono rivolte anche al centrocampo. Il centrocampista Marco Armellino, di una certa esperienza, non ha bisogno di presentazioni in questa categoria, classe 89. Poi l'attaccante Ettore Gliozzi, che dir si voglia, classe 1995. Lo scorso anno sette gol nel Cosenza, era in prestito dal Monza. Gliozzi, che c'è da dire, insomma, in Serie C, è andato in doppia cifra in due stagioni nel 2016-2017. Sio de Tirol segnando 15 gol e due anni dopo, nel 2018-2019, sempre in Serie C, a Siena realizzando 17 ereti. Bisogna battere per questi giocatori la concorrenza di altre società, per esempio Armellino. Per Armellino si è fatta avanti la Virtus Centella, su Gliozzi, invece, si registra il forte pressing del Modena e del Catanzaro. Per la difesa si fanno anche i nomi di Luigi Carillo, classe 1996, svincolato, dopo l'ottimo campionato disputato a Caserta in Serie C. Stefano Scognamillo, ex Catanzaro, classe 94, proprietà Alessandra. E poi l'argentino Ianes, classe 1997, ultime due stagioni nell'Avellino, con una parentesi di sei mesi nel Chievo lo scorso anno in Serie B. Non ci sono, invece, riscontri sulla centrocampista Giovanni Di Noia, classe 1994, che Auteri conosce molto bene per averlo allenato nel 2014-2015. Era molto giovane Di Noia nel Matera in Serie C. Tra l'altro Di Noia trascorsi anche nel Chieti nel 2011-2012. Aveva appena 17 anni, tre presenze nel Chieti di Silvio Paolucci, che sfiorò la promozione in Serie C1, battuto nella duplice finale con la Paganese, allenata allora da Gianluca Grassadonia. Non ci sono riscontri su Di Noia, perché abbiamo contattato Marco Giannitti, il DS del Perugia. Ci ha detto sì, il giocatore è in uscita, ma non ho ricevuto telefonate e richieste da parte del club biancazzurro. Queste le notizie riguardanti il Pescara.